Bella a tutti asfaltoni, benvenuti su Leontube Ecco per tutti voi un altro codice Ce l'ha fornita direttamente il nostro club Asphalt 9 Italia Probabilmente lo trovate nelle pagine Facebook Allora, come sempre andiamo qua su, nelle impostazioni Usa il codice Io adesso ve l'ho detto, non vi farò vedere il pacchetto perché l'ho già usato Allora, andiamo a scriverlo Genova Bologna, maiuscolo, 7 P di Palermo, la C di Como La S di Savona, la V di Verona e l'8 finale Questo guardatelo bene lassù perché è il codice che dovete usare Potrete riscattare 200 token e 10 pacchetti Sbrigatevi perché sono a tempo e potrebbero essere limitati Quindi chi prima riesce a usufruirlo riceverà il premio Noi l'abbiamo già usato, infatti ora ce lo dirà E abbiamo trovato anche delle belle carte Con questo il video finisce qua Mi raccomando, se vi è piaciuto, se vi è stato utile Un bel mi piace, pollicione all'insù Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale E non dimenticate di cliccare la campanella per ricevere tutte le notifiche ai nostri video Ciao a tutti!